Sono Salvatore Furia. Sono nato il 22 di novembre 1924 alle falde di una splendida montagna che è l'Etna. Quindi sono Siculo. Quindi sono un altro dei tanti innamorati. Quindi prendiamo così Wolfgang Goethe che disse della Sicilia lui che era un tedesco. Quando sono salito il 3 di ottobre alla Vetta Paradiso, in un silenzio rotto soltanto dalla risacca del vento attraverso gli aveti verso il crepuscolo mentre il sole si abbassava verso il Monte Rosa, gli ho detto, caspita, che bello sarebbe qui se poter dare ad altri la stessa sensazione che ho io. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per il desiderio fortissimo che io avevo di partecipare agli altri, quello che sentivo io. Si propone di diffondere in tutti gli altri simili uomini, donne che si incontrano nella vita di tutti i giorni, dai mercati agli uffici ai musei della scienza, questa curiosità che è la chiave della conoscenza. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!